Nell'area delle tre cime l'esercitazione congiunta del soccorso alpino bellunese, di quello della provincia di Bolzano e del Bergrettung d'Inst, associazione di soccorso non legata al CAI di Bolzano, del Tirolo Austriaco e della Baviera. Al centro della giornata inquota l'utilizzo del drone in vari scenari. Giornata dedicata al volo dei droni in collaborazione con l'Alto Adige e il BRD, giornata che è una continuazione di un progetto Interreg, abbiamo siglato un accordo tra di noi, tra i vari soccorsi alpini dell'area di confine e oggi andiamo a testare delle macchine nuove con quattro simulazioni dedicate, sia per portare dei materiali in quota sia per la ricerca di persone disperse e scomparse. Quindi vari scenari nell'area delle tre cime, la misurina fino alle tre cime e questo comporterà i test finali di un progetto che dura ormai da tre anni e quindi abbiamo concretizzato delle nuove macchine autocostruite che ci permetteranno di portare un defibrillatore, dei materiali dedicati a chi si trova in quota. Tutti insieme abbiamo fatto, con le aziende, soprattutto altre attesine che insieme alla ricerca danno un sopporto allo sviluppo di questa tecnologia di droni che è molto utile e come si vede è sempre più performante e utile per i scopi del loro soccorso alpino. Abbiamo qua individuato che ci sono ancora delle difficoltà da superare, però esercitandosi insieme e confrontandosi le idee, favorendo lo scambio, è una grande opportunità per crescere tutti quanti insieme e quello che qua stiamo mettendo in atto è un vero e proprio ecosistema tra tecnologia, applicatore e montagna. Grazie.